Parliamo e partiamo subito con il nostro professor Franco Boldrini, psicologo, psicoterapeuta, un grandissimo riferimento per i padri separati, meglio ancora per le famiglie che cercano di trovare una strada giusta, la strada noi diciamo sempre vero quella del dialogo, della comprensione soprattutto per non far soffrire i figli nel momento difficile della separazione e di conseguenza poi del divorzio. Quindi grazie davvero per essere qui. E grazie all'avvocato Massimiliano Fiorin, avvocato ma non solo, anche autore di tantissimi saggi che dopo ricorderemo che davvero hanno a che fare, grazie davvero, che hanno a che fare proprio con questo tema della separazione e del divorzio. Avvocato, sono venute fuori molte molte cose interessanti, molti aspetti importanti. Innanzitutto torna anche da un punto di vista giuridico, lei che vede immagino tante coppie che arrivano a un punto di rottura. Effettivamente la situazione dei degli uomini, quindi padri separati è una situazione di grande criticità, lei la vede? Sì certo, ma la posizione critica dei padri separati è qualcosa che noi ci stiamo trascinando non soltanto in Italia ma un po' in tutto il mondo occidentale ormai da decenni, ormai da una trentina d'anni, perché da quando si è determinata la distruzione della famiglia tradizionale, intesa proprio quando il divorzio, la separazione sono diventati fenomeni di massa, è diventato diciamo normale che poi la parte che si trova più svantaggiata economicamente sia quella paterna, perché viene sempre più relegata al ruolo che, detto come si dice in termini anglosassone, è quello del provider, cioè il ruolo deve essere quello di fronte alla rottura della famiglia di continuare a fornire soprattutto mezzi di sostentamento per tutti quanti e quindi questo comporta difficoltà economiche per i padri separati perché non ci vuole neanche tanto uno specialista per capire che quando si rompe una unione familiare, un nucleo genitoriale, là dove prima c'era una casa con un uomo, una donna e dei figli, dopo ce ne devono essere quando ci si riesce almeno due, quindi raddoppiano le spese, questi uomini si trovano nella necessità di continuare a provvedere alla famiglia ma poi anche per se stessi perché devono vivere fuori. Di solito in quale altra casa vanno a vivere? Tornano a casa dei genitori? Come funziona? Adesso si sta in qualche modo cercando di avere della sensibilità su questo tema ma è stata una tragedia nascosta per decenni nel nostro paese. Io mi ricordo che quando ho iniziato a interessarmi di questo problema non solo professionalmente ma anche scrivendo i miei saggi, parliamo quindi già di una quindicina di anni fa, allora il problema era nuovo e misconosciuto, stavano cominciando a nascere ed erano qualcosa di cui non si parlava molto le prime case di accoglienza per i padri separati, per queste persone che si trovavano ad avere perso la casa e non avere un'alternativa in maniera assolutamente improvvisa e a perdere quasi completamente il loro stipendio perché poi dovevano con esso continuare a sostenere la famiglia. Mi ricordo che in Italia c'è stato un primo esperimento che è stato fatto a Bolzano per cercare di accogliere questi padri separati, di dare loro un luogo dove poter continuare a vivere e anche ricevere i figli quando riuscivano riceverli in condizioni di dignità perché molti di loro cominciavano a finire veramente sulla strada. E ancora oggi continua a essere così? Ancora oggi ci sono queste difficoltà ma allora adesso in qualche modo si cerca di riconoscerle e cercare di poter affrontarle con un minimo di riequilibrio anche se poi non sempre accade ma fino ai primi anni del secolo dopo il 2000 era una tragedia misconosciuta. Le Caritas diocesane sono state le prime che hanno iniziato a segnalare questo fenomeno dicendo che nelle loro mense per i poveri nei loro dormitori vedevano arrivare un tipo di pubblico chiamiamolo così che non avevano mai visto prima perché erano persone che avevano anche un'aria relativamente dignitosa benché dimessa ed erano padri separati che avevano perso tutto. Oggi questo problema continua ad esserci anche se si cerca in qualche modo di riequilibrarlo. È ovvio che la crisi economica non è che lo abbia, come dire, non ha aiutato a risolverlo perché è un problema che resiste al quale si unisce anche un problema di carattere psicologico perché queste persone non solo si vedono messe improvvisamente in grandi difficoltà economiche ma finiscono anche sul piano esistenziale per vedere distrutti quelli che erano tutti i loro progetti di vita, le persone che erano i loro compagni di vita, la moglie o la compagna perché poi oggi è sempre più raro vedere coppie sposate perché c'è una fortissima crisi anche del matrimonio, questo ha delle ripercussioni anche giuridiche, improvvisamente la propria compagna di vita, i propri figli improvvisamente diventano degli assenti e spesso dei nemici. C'è questa enorme esplosione di conflittualità, non c'è più riconoscimento di un ruolo per il padre che non sia quello economico e questo crea dei contraccolpi anche esistenziali forti. Credo che anche il vostro ruolo di avvocato sia importante, l'ha tirato un pochino in ballo è il professor Boldrini, cioè il ruolo di avvocati che dal mio punto di vista debbano fare sì certo il loro mestiere ma cercare anche di mediare, di non alimentare il conflitto quindi immagino che ovviamente lei, poi so che è uno molto attento all'aspetto psicologico, mi piace anche ricordare, lo voglio fare perché ci tengo come autore di tantissimi saggi come l'amore non si arrende, l'ultimo invece il diritto e il desiderio, la fabbrica e dei divorzi finché la legge non vi separi, poi questi sono saggi, poi il romanzo, il sogno del padre. Ecco, mi piace ricordarlo perché io lo ripeto sempre, in qualunque ambito, in qualunque settore, a partire dai medici in generale, l'aspetto psicologico è importante e quindi insomma anche voi come avvocati immagino che lavoriate per cercare almeno di arrivare a un accordo nella coppia. Dovremmo farlo, dovremmo farlo, poi adesso noi avvocati abbiamo sempre il limite per cui come dire siamo i primi recettori della conflittualità che esiste tra le coppie e anche della difficoltà di trovare degli accordi, spesso siamo visti con sospetto da parte dei nostri stessi clienti se siamo troppo inclini ad un compromesso che invece tante volte, come dire, è necessario ma spesso non viene voluto dai nostri stessi clienti perché subiscono quella che percepiscono come una profonda ingiustizia. E hanno anche ragione perché di fronte ad una separazione genitoriale è inevitabile che si crei una situazione che non sarà mai ideale, sarà sempre una situazione in cui qualcuno avrà e forse tutti hanno da rivendicare che hanno subito una profonda ingiustizia. I primi come sempre saranno i figli che dovranno rivendicare in tutta la loro vita di essere stati privati di qualcosa di inestimabile che è la unità genitoriale tra chi li ha messi al mondo. Ma poi ci saranno i padri che potranno rivendicare di aver subito delle ingiustizie, lo potranno anche le madri, insomma è una sconfitta, è un disastro per tutti. Gli avvocati sono i primi recettori il più delle volte di queste situazioni. Adesso la riforma cartabia che è entrata da poco in vigore, come dire, è rimasta un po' da questo punto di vista sulle stesse posizioni perché da un certo punto di vista avrebbe dovuto cercare di mitigare il più possibile la conflittualità e lo ha fatto però non in una maniera diciamo completamente radicale perché ad esempio la mediazione familiare che dovrebbe essere lo strumento alternativo della risoluzione delle controverse familiari viene sempre raccomandata ma non diventa obbligatoria, non l'è mai stata, rimane un po' sullo sfondo perché i mediatori familiari che dovrebbero essere quelli che cercano di più possibile di attenuare la conflittualità di coppia, come dire, non sono necessariamente chiamati in causa. C'è anche una nuova figura che è stata introdotta dalla riforma cartabia che è quella dell'esperto, del coordinatore genitoriale, come lo chiamiamo anche se il termine non è espressamente recepito nella legge, che è un soggetto terzo che dovrebbe però può intervenire su consenso di entrambe le parti a aiutarli a cercare di arrivare a delle soluzioni efficaci e condivise nella gestione della loro separazione soprattutto, anzi esclusivamente direi nei confronti dei figli perché è coordinatore genitoriale quindi interviene quando ci sono dei figli da gestire. Dopo vediamo se riusciamo perché vedo che il tempo corre velocissimo, altri punti interessanti della riforma cartabia che appunto abbiamo detto essere in vigore con appunto quelle delle, possiamo definire comunque in generale, migliorie, possiamo definirle così per quanto riguarda separazione e divorzi, in alcuni casi sì, in altri no, in altri migliorie. Come tutte le riforme sono fatte per migliorare, è una riforma che viene fatta con l'intento di peggiorare, c'è come dire un tentativo di rendere più efficaci determinate cose, l'impianto generale è molto modificativo soprattutto perché adesso vengono meno completamente le competenze di divorzio. Tipo la domanda di separazione e divorzio so che è stata unificata, dico bene? È possibile? Non è stata necessariamente unificata però è stata introdotta la possibilità di arrivare a una domanda di divorzio già dal momento in cui si propone la domanda di separazione. Quindi se la coppia vuole? No, anche se il singolo vuole può effettivamente porre la questione nei termini del divorzio, prima ancora contestualmente a quando chiede la separazione, perché in Italia noi abbiamo questo sistema che non c'è, come dire, in tutti i paesi, però in Italia c'è ancora della separazione come periodo preliminare, obbligatoriamente da far trascorrere prima di poter avere lo scioglimento definitivo del matrimonio. Ma chi è a fianco ai genitori dove sono presenti nonni, parenti, zii, perdono completamente ogni rapporto. E allora io mi sono battuto perché la legge l'aveva appena previsto di far rispettare questa legge, questo mantenimento dei rapporti, perché un nonno che fino a qualche tempo prima aveva la possibilità di portare il nipote all'asilo, la compagnia, era di supporto alla famiglia, improvvisamente perde ogni contatto. E questo era possibile, proprio solo come risposta immediata, era possibile? Cioè estromettere i nonni, i genitori si separano a far loro, vengono estrometti anche i nonni, era possibile legalmente? Ah beh, nei fatti succede, nei fatti succede, ma la legge cosa dice? La legge aveva già introdotto, ancora prima di questa riforma, una rivalutazione della figura dei nonni dicendo che loro potevano in qualche modo intervenire nei processi di separazione, in qualche modo per, si direbbe per far valere il loro diritto di vedere i nipoti, in realtà se lo vede dal punto di vista della legge è sempre il diritto del figlio, di conservare rapporti con i cossi. Quindi di fatto non... Di fatto è proprio un diritto del minore avere questo continuo rapporto con gli ascendenti o con i parenti collaterali. E a quel tempo purtroppo ci si trovava di fronte anche a un...